A volte mi pare di trovarla. Io me lo sento che è ancora viva. Per un anno e mezzo io e mia sorella siamo state sempre insieme. Ti prego però se sai qualcosa devi dirlo. Tua sorella dovrebbe essere ancora viva. E le carte dicono che adesso è molto vicino a te. E' stranetta questa nuova amica di Rosa, eh? Qui osisce. Che c'hai da fare domani sera? La puntata di questa sera sarà indimenticabile. Sei convinto che Sandro Oralli è un assassino? Ma che sei matto. Mi piace provocarti. Perché quella veraviglia che tua figlia Rosa riguenta quel coglione comunista? Che fai così? Perché siete tutto quello che ho sempre odiato. Ma siete voi, voi ricchi. La verità è che io non sono io. Sono un'altra persona. Una persona che non conosco. La gente è potente, sa proteggersi. Ma scusa, chi è che può aiutarti a capire come sono andate le cose? Non devi scegliere per forza da che parte stare. Basta no! Ma scusa, chi è? Ma scusa, chi è? No, io sono un'altra persona. Ricca, chi è?